Buongiorno a tutti e ben ritrovati dopo aver vissuto il momento celebrativo questa mattina ringraziando ancora Monsignor Vittorio Viola e dopo aver vissuto anche un momento culturale attraverso la conoscenza della cattedrale sia all'interno che all'esterno eccoci qui nuovamente prima di iniziare i nostri lavori questa mattina vi ricordo appunto gli espositori che sono qui nella chiesa di San Carlo e poi in fondo c'è sempre la segretaria del Cal con i suoi sussidi e c'è anche la possibilità di poter richiedere e prenotare gli atti in anticipo di questa settimana che verranno poi pubblicati come ogni anno e così anche eventualmente se qualcuno ha bisogno di un attestato di partecipazione a questo convegno per appunto diversi motivi o per presentare nella propria diocesi o anche a scuola o al lavoro può richiedere l'attestato di partecipazione sempre alla segretaria del Cal poi c'è in fondo anche la presenza della diocesi con i sussidi della diocesi per quanto riguarda appunto la conoscenza della cattedrale tra cui ci sono diversi, è un cofanetto con diversi numeri di questi sussidi e così anche poi possibilità di acquistare anche testi, dicevo, editi dal Cal grazie ci prepariamo alla relazione, invito il professor Muroni a prendere posto qui grazie questa mattina abbiamo soltanto una relazione e affidata appunto come dicevo al professor Pierangelo Muroni della Pontificia Università Urbaniana il titolo di questa relazione è per non tradire né dio né il popolo adattamento e creatività liturgica il professor Pierangelo Muroni è originario dell'Arcidiocesi di Sassari per la quale è stato ordinato presbitero nel 2003 è docente di liturgia nella facoltà di teologia della Pontificia Università Urbaniana della quale dal 2018 è anche decano dal 2020 è consultore dell'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice dal 2021 è presidente del comitato dei decani e presidi delle facoltà teologiche romane e dal 2022 è consultore del di Castiero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti è anche membro della consulta dell'ufficio liturgico nazionale della CEI ed è impegnato nella progettazione di diversi nuovi edifici di culto e nell'adeguamento liturgico di quelli storici per la sua terra natia dopo aver ricoperto incarichi riguardanti la pastoria liturgica attualmente presso il servizio di assistente ecclesiastico dell'Unitalsi della sezione Sardegna Nord se non mi sbaglio grazie al professor Muroni per questa presenza e per la sua parola e prego buongiorno a tutti grazie a voi per questo invito e per poter condividere con voi alcune idee questa giornata inizio col dire che la liturgia è per natura propria una realtà dinamica in quanto si fonda su un'esperienza sacramentale teandrica un'esperienza cioè dove il divino e l'umano si incontrano coinvolgendo espressione rituale e dimensione antropologica e dove gioca un ruolo di primo piano la cultura e i linguaggi dell'uomo la liturgia infatti ha in sé un'anima che è assoluta e trascendente e perciò è metaculturale ma al tempo stesso è espressione umana immanente alla cultura che invece è mobile e polimorfa la semplificazione di uno di questi due poli quindi un'anima trascendente e un'espressione umana è una ferita inferta all'incarnazione che è il paradigma fondante la stessa liturgia ad instar economia e incarnazionis come ci ricorda agentes numero 11 e questo è il principio l'anima assoluta trascendente e la liturgia come espressione umana deve essere in costante equilibrio proprio per rimanere fedeli a quel titolo che mi è stato dato per non tradire né Dio né il popolo si innesta qui il tema dell'adattamento liturgico al quale la Sacro Santo Unconcilium dedica in particolare i numeri 37 e 40 che trattano appunto delle norme per l'adattamento della liturgia all'indole e alla tradizione dei vari popoli tuttavia non è sulla prospettiva dell'adattamento e della inculturazione al genio dei popoli in senso stretto che mi pare che mi sia stato chiesto di intervenire anche perché questi articoli gli articoli dal 37 e 40 sono stati trattati più volte in altre occasioni anche per esempio in occasione del cinquantesimo dell'ufficio liturgico nazionale e dell'anniversario della Sacro Santo Unconcilium la prospettiva verso la quale mi oriento e vorrei riflettere insieme a voi è riguarda il tema dell'adattamento e della creatività direi parlando della nostra esperienza pastorale concreta pur partendo da un principio più generale della liturgia di potersi adattare all'indole dei popoli e alle diverse culture di cui questi numeri 37 e 40 sono la magna carta intenderei circoscrivere il campo alla nostra pastorale concreta nelle nostre comunità infatti siamo chiamati a adattare la celebrazione creando un sano equilibrio un giusto rapporto tra identità propria del rito e possibilità di adattamento ogni giorno direi ogni volta che celebriamo dobbiamo fare questo sforzo di adattamento un adattamento previsto dai libri liturgici evitando una e qui apro già e lo chiudo per ritornarci dopo una creatività liturgica tra virgolette espressione spesso travisata e foriera di differenti interpretazioni intesa come la definisce da desiderio desideravi 48 una fantasiosa a volte selvaggia creatività senza regole sintomo di una visione miope e distorta della celebrazione stessa un adattamento dunque che riguarda tutte le nostre comunità pensate alle celebrazioni in parrocchia già diverse tra di loro se si celebra con i bambini con i ragazzi con gli adulti in un ospedale in una capellania in una capellania militare in un santuario tutti luoghi e assemblee che richiedono continuamente un adattamento con ricadute su vari aspetti il tempo di linguaggio il ritmo i tempi la gestualità lo spazio le parole in quanto si è di fronte ad assemblee e si abitano luoghi e momenti storici sempre diversi e in continuità e in continua mutazione dove si è chiamati a riadattare in funzione delle dinamiche comunicative dell'assemblea e allora mi chiedo innanzitutto che cos'è adattamento liturgico cosa intendiamo quando parliamo di adattamento liturgico come accennato sopra la sacrosanctum concilium usa un solo termine per indicare la possibilità di un certo adeguamento del rito e lo fa appunto quasi esclusivamente nei già citati numeri 37 e 40 cinque volte usa questo termine nel numero 40 e il termine come sapete è proprio il termine aptatio cioè adattamento e che in maniera sbrigativa e forse superficiale abbiamo ritradotto nella versione pastorale col termine creatività rendendolo un sinonimo cioè spesso adattamento diventa meglio creatività diventa sinonimo di adattamento ma vedremo come in realtà non lo sia ci chiediamo dunque che cosa si intende per adattamento liturgico nel senso più largo richiamato sopra qui ci aiuta l'ordinamento generale del messale romano che ci offre un aiuto ci suggerisce il senso e quale sia la finalità dell'adattamento leggo questi passaggi che ci possono aiutare sono tratti dal numero 23 e 24 perché la celebrazione corrisponda maggiormente alle norme e allo spirito della sacra liturgia e se ne avvantaggi l'efficacia pastorale in questa introduzione generale nel rito della messa vengono esposti le scelte e gli adattamenti possibili questi adattamenti che per lo più consistono nella scelta di alcuni riti o testi cioè di canti letture orazioni munizioni e gesti che siano più rispondenti alle necessità alla preparazione e alla capacità di comprensione dei partecipanti spettano al sacerdote celebrante tuttavia tuttavia il sacerdote ricordi di essere il servitore della sacra liturgia e che nella celebrazione della messa lui non è consentito aggiungere togliere o mutare nulla a proprio piacimento e il numero 352 specifica l'efficacia pastorale della celebrazione aumenta se i testi delle letture delle orazioni e dei canti corrispondono il meglio possibile alle necessità alla preparazione spirituale e alla capacità dei partecipanti questo si ottiene usando convenientemente quella molteplice facoltà di scelta che sarà descritta più avanti nel preparare la messa continua l'ordinamento generale del messale romano il sacerdote tenca presente più il bene spirituale del popolo di Dio che la propria personale inclinazione si ricordi anche che la scelta di queste parti si deve fare insieme con i ministri e con coloro che svolgono qualche ufficio nella celebrazione senza escludere i fedeli in ciò che li riguarda direttamente dal momento che offerta una più ampia possibilità di scegliere le diverse parti della messa è necessario che prima della celebrazione il diacono il lettore il salmista il cantore il commentatore la scola ognuno per la sua parte sappiano bene quali testi spettano ciascuno in modo che nulla si lascia l'improvvisazione l'armonica disposizione ed esecuzione dei riti contribuisce moltissimo a disporre lo spirito dei fedeli per la partecipazione all'eucaristia scusate questa lunga citazione ma penso siano parole che in qualche modo debbano essere ricordate e dalla quale possiamo trarre alcuni criteri per l'adattamento primo qual è la fonte e il principio dell'adattamento secondo l'ordinamento generale del messale romano la fonte e il principio di qualsiasi adattamento è il rito e i libri liturgici che contengono la struttura rituale e che propongono sia nelle premesse che lungo lo sviluppo del rito possibilità di adattamento e come fa notare lo stesso ordinamento una molteplice facoltà di scelta spesso disattese alla ricerca di altre a volte non attinenti alla celebrazione stessa per cui direi il luogo di partenza e di pertinenza dell'adattamento non può che essere il rito contenuto nel libro liturgico non può essere esterno adesso ma da esso dovrebbe prendere origine rispettando quella fedeltà che Papa Francesco stesso in occasione della pubblicazione del motu proprio magnum principium sulla traduzione dei libri liturgici e in particolare nella lettera indirizzata al Cardinal Sarà definisce una triplice fedeltà dice il Papa fedeltà al testo fedeltà in primis fedeltà alla particolare lingua in cui viene tradotto il testo infine alla comprensibilità del testo da parte dei destinatari mutatis mutandis il Papa si sta riferendo chiaramente alla traduzione dei testi liturgici ma il Papa dice attenzione se vogliamo essere fedeli a Dio e al popolo quindi non tradire né Dio né il popolo occorre una triplice fedeltà al testo alla lingua ai destinatari alla comprensibilità quindi dobbiamo essere attenti certamente una fedeltà che dovremmo intendere legata non solo al libro liturgico in genere ma più in generale al libro liturgico alla cultura e all'uomo orante lingua e comprensibilità nelle parole del Papa indicano l'uomo l'orante colui che prega nel rispetto della modalità degli stili non solo verbali di esprimere la fede da parte di un determinato popolo interessante da questo punto di vista il termine fedeltà fedeltà che viene ripreso anche dalle premesse della CEI al messale romano italiano e lo riporto perché mi piace molto il riferimento a Paolo VI in queste parole il principio della fedeltà dicono i vescovi italiani che si traduce in un vivo senso dell'obbedienza impegna ciascun ministro a non togliere o aggiungere alcunché di propria iniziativa in materia liturgica l'autentica art celebrandi non può prescindere dal modello rituale proposto dal libro liturgico la superficiale propensione a costruirsi una liturgia a propria misura ignorando le norme liturgiche non solo pregiudica la verità della celebrazione ma reca una ferita alla comunione ecclesiale e qui si riportano le parole di Paolo VI risuonano ancora di viva attualità le parole di San Paolo VI quando la vigilia dell'entrata in vigore del messale romano riformato a norma dei decreti del Vaticano II invitava a non lasciarsi ammaliare dalla tendenza ad affrancarsi dall'autorità e dalla comunione della Chiesa una tendenza che può dice il Papa costituire una fuga una rottura e perciò uno scandalo una rovina e ancora qualche anno dopo richiamava tutti con forza a dare applicazione fedele intelligente e diligente alla riforma liturgica promossa dal concilio e precisata dalle competenti autorità della Chiesa e venuta l'ora diceva Paolo VI d'una geniale concorde osservanza di questa solenne lexorandi nella Chiesa di Dio la riforma liturgica oggi dicono i vescovi italiani appare con nuova chiarezza l'importanza e l'esigenza di ripresentare con il messale romano un modello rituale unitario e condiviso e direi originante originario per qualsiasi adattamento dal quale possa prendere forma ogni celebrazione in modo che le singole assemblee eucaristiche manifestino l'unità della Chiesa orante fine della citazione dei vescovi italiani tuttavia siamo coscienti che il rispetto della normativa liturgica non può semplicemente assestarsi sull'applicazione meccanica in colore delle regole ma deve intendersi piuttosto come attitudine di agire stando nel rito in tal caso ogni parola o gesto prende le mosse dal rito e ad esso obbedisce non per spontaneismo ma per la cura dell'azione in quanto tale qualche autore oggi parla di rottura del protocollo come norma pastorale negli ultimi decenni si sono diffuse una mentalità e una prassi allergiche a ogni protocollo dice quest'autore ciò che è stabilito e ben definito nei libri liturgici non deve essere realizzato ad literam ma deve essere rielaborato ricostruito e integrato a seconda della personalità del presbitero presidente e dall'assemblea celebrante questa prassi diventata quasi una norma impone un atteggiamento creativo e quindi si devono aggiungere parole e gesti se ne devono mettere o se ne devono all'occorrenza inventare al di là del libro liturgico si tratta di quello che Benedetto XVI dice quest'autore si tratta di quello che Benedetto XVI ha chiamato un inopportuno protagonismo e una tentazione che insidia in modo particolare il ministro che presiede la celebrazione il testo liturgico prevede diversi attori che nella liturgia chiamiamo celebranti e ministri chiamati a declinarlo in azione o meglio interazione la liturgia stessa infatti è azione posta in atto da diversi soggetti che interagiscono tra di loro si tratta perciò di calare il testo all'interno della complessità dell'atto celebrativo del suo linguaggio e nell'interazione dei codici coinvolti tenendo conto dell'assemblea che sia davanti e quindi l'adattamento in quell'evento di reciprocità che è appunto la celebrazione liturgica secondo qual è partendo sempre da quelle parole dell'ordinamento generale del messale romano il fine principale dell'adattamento il fine principale o meglio la possibilità di adattamento ha come fine il bonum animaru il bene delle anime ossia la partecipazione del popolo di Dio attiva cosciente fruttuosa e la disposizione dello stesso ad entrare profondamente nella celebrazione e fare in modo che questa possa penetrare e lasciare il segno nella sua vita quindi l'adattamento non parte da me dalle mie idee dalla mia lettura ma parte dalle esigenze di far entrare il popolo nel mistero che si celebra non esistono direi altre motivazioni se non questa da anteporre anche alle inclinazioni personali del sacerdote o addirittura del ministro o addirittura di devozioni personali del sacerdote in genere come si sottolinea nell'ordinamento generale del messale romano al numero 42 ricordo ero un giovane prete studiavo già a Sant'Anselmo e andai ho già presieduto la prima messa nella mia diocesi e vivevo a Sant'Anselmo e mi chiesero di celebrare la messa anche lì come novello sacerdote e all'inizio si è molto attenti molto devoti molto pi e ricordo all'elevazione dell'Eucarestia rimasi un po' di tempo con l'Eucarestia elevata e ricordo dopo il priore della casa mi prese da parte e mi disse ehi non è il momento della tua adorazione eucaristica è questo è il momento della celebrazione comunitaria e lo disse in maniera molto molto amichevole ma mi rimase impresso per tutta la vita questo per dire che l'adattamento va oltre le nostre inclinazioni personali o addirittura la devozione e in tale principio ossia il bene spirituale dell'Assemblea ma è uguale e sempre diversa che si innesta un certo adattamento del rito e possibili adattamenti gestuali e verbali l'adattamento dovrebbe essere sempre dice desiderio desideravi al numero 62 a servizio della verità del mistero pasquale e della partecipazione di tutti i battezzati ciascuno con la specificità della sua vocazione e tali adattamenti devono necessariamente tenere presenti la preparazione spirituale e le capacità dei partecipanti non è utile proporre un repertorio di canti che il popolo non conosce e che non è stato preparato a eseguire o gesti che non appartengono all'assemblea stessa o che non comprenderebbe magari perché slegati dal rito e finalizzati solo a creare un po' di movimento coinvolgimento fine a se stesso terzo criterio che prendiamo dall'ordinamento generale ogni adattamento deve essere preparato e studiato a fondo ogni proposta di adattamento deve essere studiata e programmata prima della celebrazione quante volte vediamo noi presbiteri che improvvisiamo anche dei gesti o delle parole durante la celebrazione questo è molto pericoloso dopo vi farò un piccolo esempio semplice ogni adattamento deve essere studiato e programmato prima della celebrazione secondo quanto suggerito appunto lo abbiamo visto dall'ordinamento generale del messare romano 352 evitando qualsiasi improvvisazione e banalizzazione durante il rito e l'adattamento dovrebbe essere pensato progettato da quello che in ogni comunità dovrebbe essere il gruppo liturgico e che richiede diverse competenze e collaborazioni non solo quella del presbitero sebbene è vero che il numero 24 dica che lo riprendo questi adattamenti spettano al sacerdote celebrante e il numero che trovate qui nella slide è anche vero che il numero e quindi lascia intendere in qualche modo che il presbitero sia l'unico coinvolto nella preparazione e adattamento della liturgia nella comunità al numero 352 si specifica che la scelta di queste parti si deve fare insieme con i ministri e con coloro che svolgono qualche ufficio nella celebrazione senza escludere i fedeli in ciò che li riguarda direttamente dal momento che è offerta un'ampia possibilità di scelta è necessario che il diacono il lettore il salmista il cantore il commentatore lo abbiamo letto poco fa prima della celebrazione sappiano bene quali testi spettano a ciascuno in modo che nulla si lasci appunto all'improvvisazione sebbene perciò il presbitero chiaramente abbia il ruolo di mettere insieme le competenze indirizzare coordinare la preparazione della liturgia e gli adattamenti e quindi adoperandosi anche nel discernimento e nella formazione delle diverse ministerialità e nel discernimento anche dell'adattamento proposto è anche vero che non lo fa da solo lo fa assieme a una comunità e in particolare ai ministri che sono coinvolti nel gruppo liturgico nella celebrazione guardate anche questo il fare insieme oggi diremo sinodalmente la preparazione della liturgia e il progettare degli adattamenti necessari alla liturgia ci aiutano ad uscire da e a evitare personalismi e letture soggettive del rito per questo il messale e i libri liturgici in genere dovrebbero stare nelle mani non solo del presbitero ma di tutti coloro che partecipano a quella che chiamiamo la regia celebrativa cosa è creatività abbiamo detto che cosa dovrebbe essere adattamento liturgico la creatività non è questa è solo provocatrici cosa è creatività chiarito questo ossia cosa si intende per adattamento liturgico dicevo poc'anzi come nella versione pastorale ma bisogna ammetterlo anche in alcuni articoli ossaggi il termine adattamento e riferimento alla liturgia sia stato tradotto con creatività intendendo appunto creatività erroneamente a mio avviso sinonimo di adattamento la costituzione liturgica in realtà non usa mai il termine creatività non si può dire che la sacra santo moncilium non sia attenta ai termini che utilizza eppure non utilizza il termine creatività e non lo troviamo il termine creatività neanche negli altri documenti ufficiali del magistero o nei libri liturgici se non in rari casi e con un'accezione interessante ho fatto piccolo studio sempre negativa quando si parla di creatività è accompagnata da qualche cosa che non va funziona lo stesso Giovanni Paolo II nella lettera enciclica Ecclesia d'Eucaristia al numero 52 afferma ad esempio occorre purtroppo lamentare che soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica post conciliare per un malinteso senso di creatività e di adattamento non sono mancati abusi che sono stati motivo di sofferenza per molti una certa reazione al formalismo ha portato qualcuno specie in alcune regioni a ritenere non obbliganti le forme scelte dalla grande tradizione liturgica della chiesa e dal suo magistero a introdurre innovazioni non autorizzate e spesso del tutto sconvenienti il termine creatività l'ho trovata anche in desiderio desiderabile ma sempre con un riferimento negativo la lettera apostolica desiderio desiderabile lo usa il numero 48 parlando di una fantasiosa a volte selvaggia creatività senza regole e al numero 54 parla di creatività esasperata oggi il termine creatività è certamente debitore della temperie culturale moderna che reagisce al dominio della tradizione dell'autorità e della regola in un contesto culturale religioso strutturato attraverso norme codificate rispettate la creatività sembra essere la risposta libera alla volontà di dare autonomia al pensiero e al lato di fede dagli studi antropologici si evince come il rito necessiti della canonicità che gli permette di conservarsi nella tradizione ed eventualmente della novità che gli consente di rispondere alle spinte che provengano dalla cultura regola innovazione dunque come termini correlativi nella misura in cui la novità riesce a inserirsi nel canovaccio del programma rituale senza sconvolgerlo ma semmai potenziandone le risorse e secondo me badate questa che Giovanni Paolo II definisce malinteso senso di creatività deriva fondamentalmente da un elemento cioè dal soggetto credo che lo dirò fa poco la creatività esista ma non sia nostra sia di Dio e sia dello Spirito Santo nell'azione liturgica la creatività è propria di Dio non è nostra a noi e alla Chiesa è data la possibilità di adattare di adattare i linguaggi di incanalare di ma è lo Spirito che crea e il malinteso probabilmente di alcuni personalismi di alcune soggettivazioni della liturgia derivano dal problema di chi è il soggetto o chi è l'attore subito dopo il Concilio Vaticano II specie in alcuni ambienti si è travisato l'adattamento con la creatività spesso interpretata come una sorta di liberi tutti l'assemblea liturgica non è certamente una mera esecutrice di quanto già programmato e ben definito dal rito ma ne diventa in qualche modo interprete con le sue peculiarità umane culturali e religiose in esse si riconosce si esprime e vive di esse senza tuttavia tradire quanto gli è stato consegnato e allora per non tradire né Dio né il popolo la logica del dono credo che assieme all'individuare chi è il soggetto della liturgia dovremmo individuare anche e bene avere in mente proprio la liturgia all'interno della logica del dono perché il problema tra adattamento e creatività non è solo terminologico per spiegare meglio come adattamento e creatività non siano assolutamente sinonimi a parte rimandare al dizionario italiano vorrei rimandare appunto al titolo dell'intervento nella liturgia ricordiamo sono sempre due gli autori che intervengono Cristo e la Chiesa e occorre intendere la liturgia nella logica del dono dell'opus dei fatto da Dio alla sua Chiesa per evitare qualsiasi autoreferenzialità o possesso la Chiesa che riceve il dono a sua volta lo dispensa attraverso i suoi ministri e diventa opus ecclesi però riceve un dono il termine adattamento aiuta a intendere la liturgia in questa ottica ossia nell'ottica di dono come una realtà preesistente che mi anticipa e mi precede e che mi viene consegnata affinché la possa declinare e possa definirne canale rivelatore e nella realtà e nella cultura che abito l'opera è di un altro il creatore la creatività è di un altro e a noi viene chiesto di farla nostra il dono farlo nostro e dispensarlo ecco perché per esempio la stessa numero 7 della Sacra Sanctu Concilium parla di Cristo che associa sempre a sé la Chiesa l'azione di Cristo che associa ed ecco perché la riforma liturgica della Sacra Sanctu Concilium parla spesso di partecipazione noi prendiamo parte non ne siamo gli attori principali ed è interessante come appunto la questione della creatività qui c'è appunto tutto il discorso del dono in desiderio desideravi 3, 6, 15 quando dico che la creatività è di Dio riprendo le parole stesse che nell'Evangelio di Gaudium Papa Francesco dice al numero 11 dicendo Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina a volte siamo noi che abbiamo la presunzione con la nostra creatività di rompere gli schemi noiosi il Papa ci ricorda non siamo noi che rompiamo gli schemi noiosi ma è Cristo che rompe gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade metodi creativi altre forme di espressione segni più eloquenti parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale in realtà ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre nuova e allora è Dio che fa spuntare nuove strade con la sua creatività rendendo l'azione sempre nuova rendendo l'azione liturgica sempre nuova al contrario il termine creatività se non inteso nel farsi della chiesa mediatrice del dono rischia di uscire dalla dinamica della logica del dono in quanto indica me come soggetto creatore e attore del dono quante volte lo vediamo in alcune presidenze liturgiche o anche in alcuni fedeli dove sembra che l'attore sia io del dono non Dio stesso direi utilizzando una espressione di un noto romanzo della mia terra padre padrone della liturgia è l'idea che spesso sta all'origine di una distorta concezione di creatività liturgica o anche di animazione liturgica sembra che siamo noi ad animare a dare anima alla liturgia l'ordinamento generale del messale romano esorta che il sacerdote ricordi di essere il servitore della sacra liturgia e che nella celebrazione della messa lui non ha consentito aggiungere togliere o mutare nulla a proprio pracimento è il caso anche delle norme liturgiche riportate nell'ordinamento generale del messale romano che vietano di introdurre canti orazioni prefazzi antifone senza una debita approvazione degli organismi competenti appartiene infatti alla definizione del rito il fatto che coloro che lo compiono si sentono autorizzati a farlo da un'autorità che è fuori di loro per i riti religiosi entra in gioco l'autorità del trascendente di Dio non siamo noi la sorgente di autorità del rito non siamo noi a dare significato ai riti non siamo noi a voler esprimere con i riti ciò che abbiamo dentro semmai noi siamo autorizzati dal rito a diventare ciò che nel rito ci è dato di essere noi prendiamo significato dai gesti che nel rito compiamo noi siamo guidati dal rito a interiorizzare ciò che esso ci fa vivere considerare perciò la liturgia quale azione originaria di Dio induce l'orante un atteggiamento di apertura e di non padronanza del rito tale parole della liturgia è essenziale perché mette in gioco l'apertura alla trascendenza di Dio se nel rito si vive il rapporto diretto con Dio voler controllare il rito significa voler controllare Dio perciò al rito si addice non l'atteggiamento di controllo da parte nostra ma quello dell'affidamento libero e totale occorre dunque trovare un sano equilibrio tra ciò che è costruito il dono e che ci viene dato nel rito e ciò che siamo chiamati a mettere in atto nella celebrazione attraverso degli adattamenti in modo che la liturgia sia realmente l'incontro tra azione creatrice e redentiva del Padre in Cristo nello Spirito e accoglienza e azione dispensatrice dei doni di grazia di Dio da parte della Chiesa interessante facevo una riflessione considerando un po' la teodrammatica di Hans von Ballas e gli legge la storia della salvezza di cui la liturgia è un momento privilegiato come azione teodrammatica gli dice la storia della salvezza è un'azione teodrammatica Cristo rimane al centro del dramma della salvezza Cristo è l'attore della salvezza Cristo è rappresentato come attore del teodramma e tutti coloro che sono chiamati a recitare nel dramma sono chiamati a farlo in nome di Cristo agiscono in suo nome e non secondo i loro capricci sono chiamati ad usare la loro libertà umana per servire la libertà divina infinita in una interazione necessariamente dialogica potremmo dire usando questa immagine del teodramma di von Ballas che noi nella liturgia siamo ospiti del dono di Dio ma allo stesso tempo resi familiari e quando uno è ospite ma si sente anche familiare in una realtà in una famiglia cerca di mantenere un sano equilibrio un sano equilibrio che rispetti il dono ma che faccia emergere anche la propria soggettività in qualche modo ecco allora che personalmente mi chiedo esiste una creatività liturgica io direi se detta dello spirito sì ma se parliamo della chiesa come soggetto allora nella liturgia dovremmo parlare più di adattamento liturgico piuttosto di creatività liturgica lasciando il termine creatività allo spirito questo per non tradire né dio che ha consegnato il dono di se stesso nei sacramenti della chiesa né il popolo che né il destinatario certo incarnando introducendo il dono stesso nella cultura e nel genio dei popoli e lasciando che questi contribuiscano ad arricchire la chiesa con la propria cultura le proprie tradizioni segni simbolicanti che fanno parte del linguaggio umano e al termine adattamento aggiungerei il termine svelamento l'adattamento nella liturgia mi deve aiutare ad aprire gli occhi della fede l'assemblea a svelare il mistero non a occultarlo magari con certe scelte particolari certamente subito dopo il concilio non sono mancati dei tentativi di creatività a volte riusciti a volte meno eppure nel caso dei primi quelli riusciti si assisteva a tentativi di sperimentazioni che poi hanno trovato addirittura accoglimento nei libri liturgici a motivo della loro qualità letteraria teologica e comunicativa oltre alla loro attinenza con il mistero celebrato tentativi spesso frutto di un dialogo e confronto con esperti pensiamo dopo il concilio quanti quanti sforzi sono stati fatti per l'adattamento ma dove interagivano teologi biblisti liturgisti pastoralisti parrucci sociologi esperti di comunicazione che dopo un lavoro di progettazione cesellamento e pulitura presentavano le proprie proposte agli organi competenti per la sperimentazione e approvazione si pensi ad esempio alla preghiera eucaristica per le varie necessità la cosiddetta preghiera eucaristica svizzera preparata in occasione del sinodo svizzero nelle quattro varianti alle due preghiere eucaristiche della riconciliazione composte per l'anno santo della riconciliazione alle collette ad libitum al libitum del messale italiano per esempio o al lavoro ancora in ambito italiano per l'adattamento del rito del matrimonio e del rito delle esequie oggi assistiamo invece non solo a tentativi di creatività solitari per esempio mi è capitato preti che scrivono e usano preghiere eucaristiche di produzione propria con la presunzione non solo di averne l'autorità ma di essere omnicompetenti e presumendo che chi ha lavorato sui libri liturgici non abbia svolto un serio e lungo lavoro di ricerca e studio e non fossero competenti o abbiano preso il lavoro alla leggera questo è l'esempio che vi dicevo prima la nostra creatività nel dire periodo del covid una volta celebravo con un sacerdote e mi dice ma a te arrivano questi video? dico sì arrivano anche a me e non fate nulla io che devo fare? questi che creano dovete dirlo dovete dirlo voi che siete liturgisti dovete dirlo allora ho detto mi permetta che inizi da lei come inizia certo anche lei durante la liturgia crea e dove crea? e lui creava qui subito dopo l'embolismo signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli e lui aggiungeva sempre questo e oggi dice a noi che apparentemente non non dà fastidio allora dico lei fa questa aggiunta particolare lì perché Gesù ha detto ai suoi discepoli ma oggi lo sta dicendo a noi quindi bisogna allora siccome noi celebriamo insieme spesso quando vado a proclamare il Vangelo dirò in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli e oggi dice no questo non lo puoi fare capite che dietro questo c'è una non comprensione del memoriale o meglio di una non comprensione di una dimensione del memoriale che è di tutta la celebrazione non di una parte soltanto non è che siccome tu aggiungi lì quella parolina allora ci stai dicendo guardate siccome loro non ci hanno pensato ci penso io e così aggiustiamo un pochino le cose di questo messale che non sempre va bene quindi bisogna un pochino trasformarlo alcune scelte del messale che a noi possono essere opinabili e che per noi diventano ah ma questi non capiscono nulla e quindi cambiamenti continui nella liturgia a volte non è dovuto alla mancanza di preparazione a volte sono è capitato di assistere anche ad alcune di questi lavori alcune volte sono scelte che propendono o per una scelta teologica o per una scelta pastorale o di altro tipo ma fidatevi e fidiamoci che dietro ci sono persone competenti e più competenze non solo quella del teologo o del liturgista ma anche del biblista che a volte si lamentano perché dicono che noi abbiamo tagliato le pericopi nel messale nel lezionario scusate la colpa è vostra avete tagliato le pericope quindi non possiamo fare esegesi sul testo a parte che nell'omelia non dovrebbe non dovrebbe essere un esegesi ma quando sono stati preparati lezionari c'erano anche i biblisti allora vorrei passare velocemente a quello che definisco un decalogo salto questo per un opportuno adattamento della liturgia innanzitutto uscire da una considerazione della liturgia come proprietà e come esperienza privata spesso alcune forme deviate scusate il termine di creatività derivano dall'intendere la liturgia come una esperienza solitaria tra me e Dio dove la comunità fa semplicemente da contorno da corollario abbiamo capito che l'adattamento è in funzione della partecipazione del popolo di Dio dell'efficacia spirituale della liturgia per il popolo da una presunta proprietà della liturgia che azione di Cristo declinata dalla chiesa occorre passare alla logica del dono il rito e i gesti che compiamo nella liturgia dicono la chiesa orante e sono sempre plurali e mai individuali l'azione rituale rende possibile una condivisione che crea unità e senso di appartenenza il rito ancora questa appartenenza non a una capacità raffinata di comprensione intellettuale della fede né ad un livello integerrimo di prestazioni etiche bensì alla immediatezza di un gesto che in sé custodisce l'orientamento della fede e avvia a un suo possibile incessante approfondimento la liturgia può diventare nel nostro modo di viverla il luogo offerto perché tutti possano convergere e riconoscersi parte della comunità ecclesiale e quindi l'adattamento deve essere un adattamento per la comunità per un noi che non parte da me non è centripeto ma è centrifugo secondo scegliere la porta stretta della mistagogia nel solco dell'anno liturgico spesso nelle nostre celebrazioni scegliamo la porta larga e le scelte semplicistiche nell'adattamento come quella appunto quella che chiama da desiderio desideravi creatività sregolata e selvaggia a volte pensiamo con un battito di mani o con un movimento danzante di risolvere la questione l'eventuale scelta di adattamento di parole o gesti lì dove permesso dal rito sia fatta privilegiando non la porta larga o la scorciatoia del soggettivismo arbitrario ma privilegiando la dimensione mistagogica propria del rito che pone in relazione ciò che pronunciamo e ciò che poniamo in atto con la parola e il mistero celebrato senza confondere il linguaggio liturgico con quello catechistico e didascalico la creatività apro una parentesi e la chiudo per esempio più epifanica è nella presentazione dei doni lì la nostra creatività diventa veramente selvaggia vediamo di tutto sull'altare e nella presenza ecco lì quando spesso si mette un personaggio che spiega quali doni vengono portati in processione vuol dire che la processione non funziona perché se io devo spiegare cosa si sta portando in processione vuol dire che si è rotto qualcosa vuol dire introdurre al mistero attraverso l'anno liturgico questo è il solco nel quale trovano origine e motivazione tutti gli adattamenti nella lettera apostolica il Papa ci invita proprio a riscoprire l'anno liturgico e l'anno liturgico guardate diventa garanzia anche per evitare di scadere in una creatività selvaggia e in un esasperato personalismo o in una lettura personalizzata del rito sganciata dal mistero celebrato reso presente appunto nel rito come rischia di accadere per esempio nelle cosiddette domeniche a tema oggi che domenica è oggi oggi è la domenica dell'inizio del catechismo oggi è la domenica della vestizione dei crichetti oggi è la domenica della partenza degli scout per la route ma è ventiduesima ventitresima ventiquattresima venticinque ricordo un mio professore a Sant'Anselmo di liturgia quando c'erano gli anni a tema e quindi diceva quest'anno è l'anno di quest'anno è l'anno del ma quando celebriamo l'anno liturgico fare mistagogia vuol dire introdurre la liturgia con la liturgia non dall'esterno di essa riscoperta perciò del primato dell'anno liturgico che motivi la scelta della regia rituale e l'adattamento dei linguaggi da adottare nella celebrazione dovrebbe essere l'anno liturgico a informare l'eventuale iniziativa della domenica non l'iniziativa della domenica a informare l'anno liturgico e il lezionario e la parola di Dio non alla tentazione di una continua ricreazione del linguaggio rituale spesso nella comunità per vincere alla monotonia la noia e la repetitività del rito si ha la tendenza e la frenesia di creare continuamente nuovi segni simboli azioni se non addirittura parole nuove che scalvalgano gli stessi libri liturgici il parossismo dell'inventiva scusate nasce dalla disabitudine all'azione che proprio perché continuamente ricreata non plasma corpi e cuori non diventa habitus cosa facciamo questa domenica nella liturgia la partecipazione per ritus et preces non è in primo luogo intelligenza del mistero attraverso l'intelligenza del rito ma attraversamento del rito quale prima e più efficace modalità di esperienza del mistero un'inclinazione costante al cambiamento spesso trae origine dalla volontà di togliere ogni formalismo alla forma ma in realtà la lega a personalismi e a moralismi del momento impendendole il respiro profondo del linguaggio simbolico rituale e la sua oggettività Romano Guardini paragonava la liturgia al gioco il gioco ha delle regole se io gioco a pallone a calcio e inizio a prendere il pallone con le mani l'arbitro fischia perché sto facendo un altro gioco eppure anche nel gioco del calcio lo sappiamo bene c'è l'adattamento c'è la novità sempre basta che giochi una squadra diversa dall'altra i gesti liturgici sono propriamente la forma ecclesiale della fede e tale forma viene trasmessa perché prenda forma il nostro essere credenti essi sono il linguaggio primario e diretto della fede in Dio linguaggio che la Chiesa ha preso nell'esperienza storica della rivelazione e che come una madre mette in bocca i nuovi figli quella liturgica è la forma istituzionale e istitutiva della fede celebrata tale il suo valore il quale viene preservato proprio dalla natura rituale della liturgia attenzione e questo non vuol dire che non dobbiamo porci alla ricerca di nuovi segni anche nella liturgia che il concilio Vaticano II ci chiede di accogliere con prudenza ma anche con audacia senza però offuscare quelli già esistenti e allo stesso tempo evitando di classificare automaticamente una novità come abuso non è che ogni adattamento anzi un adattamento non è un abuso e ogni tentativo di adattamento se fatto con i giusti criteri e anche con il giusto rapporto con le competenti autorità non è automaticamente abuso anche Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium al numero 167 ci sprona ad avere il coraggio di trovare nuovi segni nuovi simboli una nuova carne per la trasmissione della parola le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali e comprese quelle modalità non convenzionali che possono essere poco significative per gli evangelizzatori ma che sono diventate particolarmente attraenti per gli altri dall'altro lato la Sacra Sanctua di Concilio ci dice per conservare un equilibrio tra tradizione e progresso ci deve essere sempre una precedente accurata investigazione teologica storica e pastorale in ogni novità in ogni prospettiva di adattamento è per questo che l'adattamento non può essere fatto da soli ecco la sola mia competenza un programma rituale quattro che diventi il programma rituale ogni necessità di adattamento deve partire dal modello custodito nel libro liturgico e questo lo abbiamo detto già poc'anzi cinque formazione ai libri liturgici e dai libri liturgici quindi una necessità di una formazione ai libri liturgici molte volte noi non conosciamo i libri liturgici e tutte le possibilità di adattamento che già il libro liturgico mi offre a cominciare dal messale per continuare al lezionario eccetera una conoscenza del libro liturgico non solo del presbitero ma anche del popolo di Dio e soprattutto del del gruppo liturgico questa l'ho messa per sorridere questa è una lettura del rito dell'esequie ho fatto un'indagine mia personale niente di scientifico ma è la più gettonata per il rito dell'esequie perché perché ha un solo versetto e la più breve capitolo 14 versetto 13 dell'apocalisse di san giovanni apostolo e soprattutto quando si hanno molti funerali la via breve è la più gettonata dinanzi a una varietà e possibilità che il lezionario mi offre ricordo una volta sono andato in una parrocchia per un funerale mi danno il rito dell'esequie e c'era il libro che praticamente aveva lo scotch delle pagine qua e qua dico ma io devo entrare lì perché c'è no 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 deve fare quelle orazioni là sono quelle che facciamo sempre quindi si attenga a queste con tante possibilità di adattamento che noi abbiamo a volte andiamo a crearne e a cercarne altre sei curare tutti i linguaggi della liturgia questo mi rifaccio soprattutto a Romano Guardini Desiderio Desideravi 44 dove tutti i linguaggi della liturgia dovrebbero essere curati e lì esprimere l'adattamento in relazione al mistero sette fare attenzione alle liturgie e al linguaggio di settore a volte noi soprattutto nelle celebrazioni con i giovani o con i bambini cerchiamo dei gesti adatti delle attenzioni più adatte no e a volte questo può funzionare altre volte non funziona specie nella comunità parrucchiale si è la tendenza a creare delle assemblee liturgiche di settore e per questo si cercano soluzioni creative non sempre all'altezza della situazione a mio avviso è più efficace a lungo termine cercare di mettere in atto delle attenzioni concrete verso le persone presenti nell'assemblea piuttosto che creare modelli celebrativi destinati a una fascia di età o di persone altrimenti si rischia di creare contesti selettivi inducendo l'aspettativa che ogni categoria bambini ragazzi adolescenti giovani possa legittimamente trovarsi distintamente e attingere a un modello celebrativo proprio dispensandosi però dal paterciparvi quando si esaurisce il senso anagrafico di appartenenza otto e sto terminando evitare trapianti da altre culture e qualsiasi genere di folclorismo questo già lo diceva Bognini nelle sue memorie sulla riforma diceva a questo proposito Bognini in talune chiese missionarie sono state importate dai paesi di cultura occidentale iniziative liturgiche peregrine per il paese di origine ma sfasate addirittura per i paesi missionari oppure si sono visti centri di cultura mediterranea importare dall'Asia e dall'Africa usi e costumi naturali per quei popoli ma completamente fuori tono nel contesto ecclesiale e sociale europeo questo fenomeno è oggi in declino lui lo diceva allora non lo so se è stato l'effetto di un primo impulso post conciliare a misura che la riforma raggiunge le sue mette con la pubblicazione di nuovi riti matura una coscienza liturgica e le stravaganze più eccentriche cadono non lo so se quest'ultima frase sia eventualmente ancora oggi attuale se queste stravaganze eccentriche cadono realmente per cui se anche la liturgia abbraccia e si serve della dimensione del linguaggio in quanto strumento di dialogo tra i due attori principali nella scena celebrativa se il linguaggio parlato dei due entorlocutori utilizza segni e gesti incarnati nell'umanità stessa o meglio che scaturiscono dall'uomo e dalla sua esistenza e quindi suscettibili del condizionamento storico e culturale anche i segni come i gesti nella liturgia si sprigionano dalla cultura di un popolo si pensi alla postura del corpo alla danza ai profumi alle vesti ai colori e non nascono a tavolino o dall'iniziativa o sensibilità del singolo ma nascono dall'esigenza di un popolo nove credo che sia una questione emergente la leggo l'annuncio soltanto questione emergente da liturgie multiculturali e interculturali oggi anche in Italia assistiamo a liturgie sempre più multiculturali dove abbiamo la presenza di diverse persone provenienti da diverse nazionalità da diversi paesi e non solo tra i fedeli anche tra noi presbiteri quindi la domanda è perché non pensare eventualmente a un adattamento liturgico dove la liturgia diventi non solo multiculturale cioè sono presenti diverse ma interculturale cercando una sorta di adattamento dove tutte queste realtà vengono coinvolte certo non un folclorismo della liturgia ma fare in modo come già diceva il convegno di Firenze del 2015 che la liturgia diventi ospitale per tutti e infine l'impegno delle conferenze episcopali nel continuare l'adattamento liturgico subito dopo il concilio si è assistito soprattutto a una fretta nel pubblicare i libri liturgici nella traduzione poco nell'adattamento oggi si ha necessità lo abbiamo detto più volte la riforma liturgica non è conclusa ha bisogno di essere continuata anche nell'adattamento dei libri liturgici penso in ambito italiano al rito del battesimo dei bambini che oggi deve far fronte a necessità molto attuali rito della penitenza ci sono veramente situazioni che richiedono ripensamento ecco forse le conferenze episcopali chiaramente con l'aiuto il sostegno e la guida di castello del culto divino dovrebbero porsi il problema di continuare questo adattamento previsto per le conferenze episcopali proprio anche nelle premesse del rituale credo che questo possa essere anche un antidoto a creazioni selvagge a volte anche giustificate i preti che dicono ma questo linguaggio questo modo non corrisponde più alle esigenze del momento forse è arrivato il momento anche da parte nostra di porci delle domande in questo senso termino con una citazione di Peur Ricœur di un filosofo sono riconoscente alla liturgia per il fatto che mi strappa alla mia soggettività e mi offre non le mie parole non i miei gesti ma quelli della comunità sono felice di questa oggettivazione dei miei sentimenti quando entro nell'espressione cultuale io vengo strappato all'effusione sentimentale entro nella forma che mi forma riprendendo e facendo mio il testo liturgico divento testo a mia volta un testo che prega e canta sì grazie alla liturgia vengo fondamentalmente liberato dalla preoccupazione di me stesso grazie della pazienza credo che noi tutti tutti abbiamo conosciuto o conosciamo ahimè forme di creatività del tutto aliene dall'ordo che abbiamo ricevuto che ci è stato consegnato dalla chiesa il professor Muroni ha fatto riferimento alla riforma liturgica ai libri liturgici che ci offrono la possibilità di una scelta di testi funzionali funzionali all'efficacia proprio della pastorale della celebrazione per il bene delle anime ricordava il professor Muroni e allora non si tratta di strategie per l'attenzione o di protagonismi ma siamo stati richiamati dalla relazione del professor Muroni proprio a ricordare i criteri fondamentali affinché la creatività salvaguardi quella identità che è propria del rito che scaturisce poi anche dalla trama celebrativa e quindi ci viene offerta dai libri liturgici molte volte manca ci è stato ricordato una conoscenza teologica storica culturale quindi ecco ci si perde in tante cose e quindi non si attenti all'adattamento e quindi tradiamo Dio e il popolo mi permetto così a modo di conclusione di richiamare un documento della Chiesa italiana della Commissione Episcopale per la Liturgia nell'83 questa nota pastorale il rinnovamento liturgico in Italia vent'anni da Sacro San Concilium e questo documento rivolto poi ai presbite diceva che bisogna essere mediatori tra il libro e l'assemblea noi abbiamo questo compito di essere mediatori tra il libro e l'assemblea proprio per non tradire e anche per permettere ecco la fedeltà all'ordo ai libri e quindi anche all'assemblea per permettere che la Chiesa preghi che sia un'eclesia orans altrimenti si rischia come qualcuno dice di prendere messa e cinema grazie grazie a professor Muroni grazie a tutti